La Sicilia è la terra dei contrasti dove tutti i nostri sensi vengono messi alla prova. Ho cercato di creare un'immagine dove l'auto appare e scompare all'interno di una cornice data dal nostro bellissimo paese. La Sicilia è storia, profumo, colori, qualcosa distruggente, una bellezza che ti avvolge e ti conquista. Ho cercato di utilizzare il linguaggio del lifestyle e della foto street per cercare di creare delle immagini che siano al tempo stesso sogno e realtà, sfruttando quelli che sono anche i contrasti della Sicilia che è la terra che ci sta ospitando. Lamborghini è l'auto che tutti vorremmo provare almeno una volta nella vita. L'Italia è eccezionale e questo progetto permetterà a tutti quelli che lo seguiranno di scoprire negli angoli più nascosti.